Il coro Franco Maggola della Chiesa Sanzaglia di Arcario Zimubi dirige Gian Battista Chiametti con i sobrani Stefania Bocchi e Giretta Sanzaglia. Buon ascolto. Grazie. 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 Adesso chiamiamo, spero sempre di sbagliare in via, il direttore Mario Gioventù, il Presidente di Tito Camposti per il Corso di Intercanto. Il Presidente di Tito Camposti, il Presidente di Tito Camposti per il Corso di Intercanto. Grazie.